Uno Nessune Centomila di Luigi Pirandello ci spiega una cosa importantissima. Se la gente si facesse i fatti propri e non facesse continuamente osservazioni, vivremo tutti più felici. Capito, cara moglie del protagonista? Ma andiamo con ordine. Il romanzo è ambientato in un paese siciliano, Ricchieri. Il protagonista per una volta non è un disperato, sfortunato e povero. No, è ricco, benestante, è un banchiere ereditario, sì, è pure usuraio, ma non si può avere tutto. Lui si chiama Vitangelo Moscarda, per tutti Gengè. Un giorno la moglie Dida, santa donna che non tiene la bocca chiusa, lo guarda mentre allo specchio e gli dice, oh, ma lo sai che il tuo naso pende a destra? Pirandello scriverà, le mogli fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ottimo modo per renderti simpatico agli occhi delle signore, Luigi, complimenti per il coraggio. Insomma, dopo l'appunto sul naso, il panico, non perché Gengè, sia fissato con l'estetica o perché doveva partecipare a Mister Ricchieri in 1926, anno di pubblicazione del libro. No, perché si rende conto che la percezione che abbiamo di noi stessi è diversa, forse falsata, boh, comunque noi ci vediamo in un modo, ma gli altri possono notare aspetti e caratteristiche delle quali non ci accorgiamo. Oggi è naso storto, ma domani cosa potrebbe essere? Il povero Gengè, nei 28 anni della sua vita, chi è stato veramente. Da questa ossessione, che porta poco a poco a disgregare l'io del personaggio, parte un'analisi intricata che lo fa un po' sgabinare, insomma gli fa perdere lucidità. Inizia a cercare di capire chi è veramente, facendo cose imprevedibili, notando cose che prima non aveva mai visto e facendogli compiere anche azioni in contrasto con l'idea che amici e parenti avevano di lui. Per dire, sfratta una famiglia e poi regala alla stessa famiglia una casa, si fa odiare dai congiunti perché vende la banca ereditata dal padre, la moglie lo lascia e, alleatasi con gli amministratori della banca Quartorzo e Firbo, inizia le pratiche per farlo interdire, perché il povero Gengè ammorba tutti con riflessioni arzigogolate su chi siamo, dove andiamo, come veniamo visti. Insomma, per noi siamo uno, ma per gli altri siamo centomila persone diverse. Gengè rimane a poco poco da solo, anche Anna Rosa, amica della moglie, buona sì, ma un po' basic. Inizialmente gli sta vicino, poi esce di melone pure lei, agitata dai discorsi del protagonista e arriva pure a sparargli. Non lo uccide, però bene non gli fa. Alla fine Vitangelo trova un conforto in un vescovo, Monsignor Partanna, che gli dice dai tutto ai poveri. Lui lo fa e termina la sua vita in un ospizio, peraltro creato da lui stesso, trovando un po' di serenità e magari ritrovando il suo vero io, oppure riuscendo finalmente a essere nessuno. La frase più celebre che racchiude il senso di tutto è quella che trovate condiviso ovunque su Facebook. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. E comunque aggiungiamo, la gente deve imparare a farsi i fatti propri. Oh!